Ciao, sono Sara Baldi, sono una nuova giocatrice della Sampdoria Women, ho 22 anni e sono un'attaccante. Mi piace giocare sull'esterno soprattutto, ma anche venire in mezzo a giocare a centrocampo e spero di essere molto utile nel gioco di Mr. Cincotta. Ho iniziato a giocare a calcio con mio cugino in giardino a casa mia e grazie a mio papà ho iniziato a portarmi nella squadra del paese, ho iniziato a giocare con i miei amici alla scuola elementare e da quando ho sei anni ho fatto scuola a calcio e verso i dodici ho iniziato ad andare a giocare con le ragazzine fino a quando mi sono stabilita a mozzanica per sei anni, tra giovanili e prima squadra e dopodiché è iniziata la mia carriera. A 16 anni di punto in bianco mi sono trovata in prima squadra, in Serie A, in un nuovo mondo e da lì ho capito che volevo giocare a calcio, volevo sempre rimanere in Serie A ma avevo voglia anche di cambiare quindi mi sono trasferita a Verona, ho fatto due anni lì in cui diciamo sono stati due anni di crescita. Dopo due anni a Verona mi è arrivata la chiamata dalla Fiorentina del mister che ho tuttora e ho accettato quasi subito perché era comunque ancora un passaggio in avanti verso il professionismo che è arrivato ora. Se mi chiedi qual è la soddisfazione, l'obiettivo più alto che ho raggiunto finora è appunto giocare la Champions nella stagione 19-20 con la Fiorentina. È stata una sorpresa quando nell'undici titolare che ha messo mister Cincotta nella formazione con il Manchester City che era una delle squadre più forti d'Europa mi sono trovata dentro anche io e quando sono entrata in campo che c'era l'inno, che c'era l'entrata con tutto il pubblico allo stadio, mi fermavano le gambe insomma. Cincotta è il mister che ha creduto più in me, che crede tuttora in me. Spero di aiutare la Sampdoria e lui ad arrivare più in alto possibile. Uno dei motivi per cui sono inutato a Sampdoria è l'ambiente che si percepiva da fuori che esistesse. Infatti quando sono arrivata qua la prima cosa che mi ha colpita è il gruppo, l'ambiente, il clima che si respira qua che è il punto forte della Sampdoria secondo me. Io appena sono arrivata qua prima di conoscere gli individui ho conosciuto il gruppo, ho conosciuto la famiglia ho capito che qui ovunque ti giri hai qualcuno che se sei in difficoltà comunque ti dà una pacca, ti tira su, che ti aiuta. Io prima il concetto di squadra lo conoscevo ma più sulla carta che sul concreto e invece qua già al primo giorno ho capito in concreto cosa vuol dire. L'obiettivo personale è quello di giocare più possibile, fare il meglio possibile e cercare di aiutare il più possibile. Quello della Samp secondo me è cercare di arrivare più in alto possibile come la scorsa stagione, dare il meglio e secondo me arriveranno ottimi risultati. Grazie. 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 Grazie.